Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPLI per incidente, 3 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Sulla A1 ci sono code in uscita a Firenze Sud e a Firenze Scandicci in direzione Roma, in direzione Bologna, di vieto di transito per i pesanti tra Barberino e Aglio. La viabilità cittadina tra Firenze e Scandicci è chiusa per il crollo di un muro via delle Bagnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. A causa dell'investimento di una persona nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte, i treni nel nodo di Firenze potrebbero subire variazioni, cancellazioni e ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!